Non sono ancora iniziati i lavori di messa in sicurezza sulla collina di Letoianni. L'autostrada Messina Catania resta aperta solo sul lato mare, con doppio senso alternato. Gli automobilisti pagano il pedaggio, ma ancora non hanno un servizio adeguato e soprattutto sicuro. Il 3 ottobre la frana che aveva ostruito la carreggiata lato monte. Ancora oggi è tutto così. Il Consorzio Autostrade si è detto disponibile a intervenire pure sulla collina, a patto che qualcuno mette i finanziamenti. Forse la protezione civile, ma anche qui non è sicuro. Il presidente del Consorzio Faraci aveva sottolineato a ottobre che parte dei lavori sulla collina franata alle Toianni, che aveva interrotto l'autostrada, non sono di competenza del Consorzio. Era stato istituito un tavolo tecnico per sciogliere il dilemma e non sono arrivate risposte. Il nostro obbligo di messa in sicurezza aveva aggiunto Faraci riguardo una parte di collina, cioè 4 metri, sopra il muro che delimita la corsia autostradale. Fatto questo bisogna decidere di chi è la competenza. Reputo che interverrà la protezione civile, ma è una mia supposizione. Un mese e mezzo dopo la frana, resta tutta una supposizione.